Tartarughe Ninja numero 53 della IDW, edito in Italia da Panini, Mutante vs Robot è il sottotitolo, ma questo è il titolo che cambia le carte in tavola e aggiunge qualcosa nel mazzo. Wabalaba dabdabe, bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Tartarughe Ninja, rubrica che ogni weekend viene alimentata dai miei video retrospettivi sui vecchi numeri dall'1 al numero 49 dei fumetti della IDW, perché appunto non ne ho parlato prima, e qualora quando esce bimestralmente il numero della serie regolare, parlo della serie regolare. Mi scuso se sabato scorso non sono riuscito a far uscire il video in tempo, ma sarebbe uscito troppo troppo tardi e su vostra stessa richiesta mi avete chiesto di non pubblicare video troppo tardi la sera, quindi ho preferito evitare e rimandare alla settimana successiva. Quindi c'è stata una settimana, ancora ogni tanto ci sono dei buchi privi di Tartarughe Ninja, ma spero mi perdoniate, anche perché così ho aumentato la suspense per quello di cui parleremo in questo numero. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno un nuovo membro in famiglia e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo fumetto e di questo video. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch, così quando ci sarà un po' di Tartafamiglia anche su Twitch faremo magari delle live dedicate. Ragazzi, questo è uno dei numeri più spoilerati della saga delle Tartarughe Ninja. Bisognava vivere sul pianeta non amo le Tartarughe Ninja per non sapere cosa succede in questo numero. Finalmente questo numero è arrivato, vi dico, è un numero del 2019, quindi è arrivato con tre anni circa di gap rispetto agli Stati Uniti. Quindi presumo che gli spoiler che mi sono fatto in questi giorni sui nuovi personaggi ulteriori che dovrebbero arrivare li vedremo tra altrettanti anni, se non di più. Spero di no, perché sono davvero fomentatissimo per un personaggio che dovrebbe arrivare nella serie regolare di Tartarughe Ninja. Ma questo personaggio invece che, diciamo che non è che viene introdotto oggi, ma viene cambiato oggi, ha aperto poi la strada a quello che sarà il futuro. Ovviamente ci eravamo lasciati nel numero scorso dove Karai era tornata, armata di cattivissime intenzioni, armata del volersi riprendere il clan del piede. E voleva riprenderselo da Splinter anche in maniera pacifica dal momento che comunque Splinter stesso voleva cederlo perché non ne poteva più, ne aveva le balle piene, come dicono in Giappone, di questo clan del piede. C'erano troppe responsabilità, troppo pugno duro che lui non voleva avere e lo avrebbe ceduto volentieri a Karai. Se non fosse che c'è stata una divergenza di opinioni abbastanza pesante sul futuro dei bambini che avevano salvato qualche numero addietro da, non so, da cosa, comunque è come se fosse stato un piccolo orfanotrofio anche il clan del piede, Karai voleva costringere i bambini a diventare dei ninja. E se rifiutavano, se avessero, scusate i verbi, se avessero rifiutato di aderire al clan del piede, Karai li avrebbe giustiziati. Ovviamente su questo c'è stato un forte disaccordo al punto che è scoppiata una guerra, una guerra tra clan. Il clan di Karai, tutti gli scagnozzi che si è portata dal Giappone, oltre ai suoi affidabili e fidati mutanti, hanno impedito alle tartarughe ninja di salvare Jennika. Jennika è la Chunin di Splinter, ovvero la seconda in comando del clan del piede gestito da Splinter. Jennika è stata attaccata, quasi diciamo a tradimento, cioè frontalmente ma comunque senza preavviso, da Karai che l'ha trapassata con una spada giapponese che è alimentata dallo stesso odio che Karai cova all'interno di sé e credo lo alimenti pure. Oltre a questo, perché chiaramente il primo istinto sarebbe di portare una persona con una ferita del genere in ospedale, oltre a questo il clan di Karai ha fatto in modo che il clan amato, o il clan del piede, dato che in questo caso sono la stessa cosa, fosse impossibilitato a portare Jennika in ospedale, tant'è che hanno presidiato tutti gli ospedali in modo da, in un certo senso, attaccare, fare guerriglia contro le tartarughe ad ogni ospedale in cui sarebbero arrivati, quindi sarebbe stato impossibile salvare Jennika. Allora, Donatello ha avuto un'idea disperatissima, ovvero prendere il fluido che qualche tempo addietro aveva salvato il padre di April, che qui tra l'altro chiamano Ouse, ecco io devo davvero velocizzarmi a fare un ripasso dei vecchi numeri, perché questo fluido giallo lo chiamano Ouse ed è diverso dal mutageno, sono due liquidi ben distinti e vorrei proprio capire meglio questa cosa perché onestamente non me la ricordo. Fatto sta che l'Ouse da solo ha delle proprietà curative e in un certo senso ci può stare, perché è l'Ouse quello che potenzia le capacità umane, abbiamo visto in Tartarughe Ninja 2 il segreto di Ouse che l'Ouse fondamentalmente trasforma Shredder in Super Shredder, è in un certo senso il mutageno che si è visto nella serie regolare, quello che trasforma gli animali in esseri antropomorfi, di conseguenza trasforma gli umani in esseri antropomorfi ancora più forti, quindi ha un senso, mentre il mutageno potrebbe essere quello famoso portato alla ribalta dalla serie televisiva che trasforma un essere nell'essere con cui è stato a contatto più di recente. Di conseguenza le Tartarughe Ninja erano state a contatto con Amato Yoshi, sono diventate umane, Amato Yoshi era stato a contatto con i topi e è diventato un topo, l'hanno un po' spiegata così diciamo. Però questo ha contribuito a far nascere mutanti che provenivano da umani e non da animali come Bebop e Rocksteady, quindi molto bene che esista questo mutageno, non l'ho ben capito perché qua ne esistono due, non ci è dato bene sapere, però il fatto sta che questo Ouse cura le ferite anche molto gravi, peccato che a un certo punto, come se non bastasse, arriva anche la forza di protezione terrestre e Metalhead, che anche qua mi devo proprio andare a ripassare quando Metalhead è diventato un fottutissimo psicopatico robotico. Metalhead e la forza di protezione terrestre che si sono alleati per sconfiggere le Tartarughe Ninja distrugge nella colluttazione la fiala di Ouse che stava fluendo nelle vene di Gennica per curarla. Ovviamente non era abbastanza per curarla, quindi alla disperata Donatello propone a Leonardo di fare una trasfusione a Gennica perché Gennica stava proprio morendo, quindi l'alternativa a farla morire è stata la trasfusione di Leonardo che però ha portato a inevitabili conseguenze. Gennica è diventata a tutti gli effetti una mutante, una mutante di origine umana ma che è diventata ovviamente una tartaruga dal momento che è Leonardo ad averle passato il suo sangue. E questo ci porterà alla famosa quinta tartaruga che ha spaccato in due il pubblico statunitense. In molti hanno amato la novità, in molti l'hanno odiata. Io dal canto mio vi posso già dire il mio pronostico, io sono sempre contento di vedere nuove tartarughe, io adoro Tocca, adoro Slash, ci saranno anche altre tartarughine in futuro e sarò molto contento di vederle. Quello che a me non piace di come tratteranno il personaggio di Gennica è che solo perché è diventata una tartaruga, ed era la ciuline di Splinter, ok, a un certo punto è come se diventasse una quinta sorella, cioè una quinta tartaruga. A me non dispiace che ci siano 5, 6, 7 tartarughe, non è il fatto che Gennica sia diventata una tartaruga, perché a me dispiace, dispiace che diano per scontato che solo per questo debba vivere insieme alle altre quattro. Non è una cosa che apprezzo molto, anzi, paradossalmente io l'avrei allontanata per qualche tempo per poi farla tornare. Fatto sta che se molti hanno storto il naso con Venus, che comunque aveva un'origine concettualmente più simile a quella che è di Raffaello in questo numero, ovvero una sorella dispersa alla nascita che poi è ritornata. E quindi lì ha senso che viva con la propria famiglia. Mentre dal momento che Gennica ha anche origini umane, insomma, preferirei che si percepisse un po' di più il suo disagio in questa nuova vita, ma magari lo tratteranno molto bene, quindi io parlo solo per quello che ho visto proiettato su internet. Quindi spero che la cosa non mi andrà storta. Purtroppo, o meglio, questi furbini della Panini hanno ben pensato di lasciarci in sospeso con un cliffhanger e poi aggiungere altre due storie, come fanno in America, no? Quindi noi non sapremmo nulla di Gennica fino al mese prossimo, sempre che esca puntuale. Le altre due storie di questo numero parlano appunto di Orokusaki, quindi di Shredder, che si trova niente poco di meno che all'Inferno. E devo dire che tra i tre è la storia con le tavole disegnate in modo più spettacolare. Io adoro tutti e tre gli stili di disegno, ma a mani basse oggettivamente la storia di Shredder è spettacolare dal punto di vista visivo. La terza storia invece, che un po' spiazza ma vi consiglio caldamente di leggere all'inizio la prefazione, parla di un'avventura in solitaria di Donatello con Metalhead, che però è ambientata molto prima della storia principale. E se voi non leggete la prefazione non ve lo dice nella storia, quindi ecco, vi consiglio di leggerla. E ci fa vedere un po' il rapporto appunto tra questo Donatello e questo Metalhead, che è già potenziato, quindi io devo capire quando cazzo è successo. Devo dire che in generale sono stato molto contento di aver letto tutte le tre storie. Le tre storie si sono lette velocissimamente perché le vuoi leggere a perdifiato. Ovviamente quella di Shredder si legge un po' meno veloce perché è più introspettiva, quindi non c'è tutta questa fretta di arrivare alla fine, però devo dire che è stato proprio un bel numero da leggere. Io onestamente non avrei scelto questa copertina perché per un evento così pazzesco avrei scelto la copertina che parla della storia principale, che poi è quella che dovreste trovare nella mia miniatura e anche su Instagram, in cui quantomeno si vede gennica ferita, se non si vuole proprio spoilerare quello che succede all'interno. Però vabbè. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, noi ci vediamo settimana prossima con la mia retrospettiva sui vecchi numeri e spero il mese prossimo con il numero 54. Io con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Ciao!